Biolaboratorio di Torraccia, corteo di 6.000 persone per dire no Porto di Pesaro, a breve la rimozione dei paletti Viale Trieste, partita la demolizione dell'hotel Garden Confcommercio, presentato l'itinerario della bellezza 2023 L'istituto Benelli sceglie 24 docenti e 6 dipendenti per l'Erasmus Grazie a tutti Telegiornale di martedì 2 maggio che apriamo con il corteo di protesta che è avvenuto ieri, 1 maggio, nel quartiere di Torraccia per manifestare contro la realizzazione di un biolaboratorio che dovrebbe sorgere in un'area vicino alla vitrifrigoarena Maschere antigas, cori e cartelli La protesta contro la costruzione del biolaboratorio BSL3 che dovrebbe nascere nel quartiere di Torraccia Si è regolarmente manifestata ieri pomeriggio nonostante la pioggia imperterrita che si è abbattuta sulla città Nel giorno di festa dei lavoratori si sono radunati a Pesaro circa 6.000 partecipanti provenienti da tutta Italia e dall'estero Per ribadire il no già espresso nei mesi precedenti su una struttura in grado di sperimentare e manipolare in vivo e in vitro agenti virali pericolosi per la salute animale dell'uomo Manifestanti attrezzati di slogan e bandiere che alle 15 sono partiti da piazzale Stefanini Hanno poi proseguito verso l'area commerciale di quartiere concludendo il corteo una volta giunti alle spalle della vitrifrigoarena In quell'area tra via dei Tigli e via Grande Torino in cui sarà costruita la struttura Pesaro chiama l'Italia risponde Uno slogan che ha l'intento di richiamare l'attenzione di autorità e istituzioni locali ma anche nazionali Su un biolab che rimanda concettualmente alla diffusione pandemica Covid-19 e al laboratorio di Wuhan di sicurezza addirittura maggiore Un percorso di poco più di un chilometro che dopo una sosta ha ripreso il suo cammino arrivando alla rotatoria della Guardia di Finanza e terminando poi al punto di partenza L'intera durata del flash mob è stata controllata dalle forze dell'ordine che di conseguenza ha provocato il blindaggio dell'intera zona dalle 15 alle 17 di ieri pomeriggio Con la ripartenza dei circa 40 pullman verso le ore 18 una volta conclusa la manifestazione Un atto vergognoso come definito da molti contrari al progetto che nella protesta sono stati guidati dai due referenti locali Lisetta Sperindei e Marco Palanghi Centrale è il riferimento fatto dai due rappresentanti ad un disastro imminente che vedrà battersi sulla città di Pesaro Lamentele che sono in sorte negli ultimi giorni anche per quanto riguarda i paletti di sicurezza installati lungo il molo del porto di Pesaro Un argomento di cui si è discusso venerdì in un vertice avvenuto ad Ancona sul quale sono emerse importanti novità L'installazione dei paletti bianco-rossi avvenuta lo scorso 20 aprile lungo il bordo del molo di Levante è stato uno tra i temi più vivaci e dibattuti dalla cittadinanza pesarese Diatriba tra utilità ed esteticità E dopo neanche due settimane sul discusso in pianto di sicurezza è arrivato il dietro fronte da parte dell'autorità portuale che ha deciso di provvedere per la loro rimozione Inviando a breve un progetto alternativo Sulla situazione del porto di Pesaro in cui l'argomento paletti è rientrato Si è svolto venerdì mattina un incontro nella sede della stessa autorità portuale di Ancona Tra il sindaco Ricci, il consigliere regionale Biancani e il presidente dell'ente Vincenzo Garofalo Sul piatto una tematica fondamentale come il dragaggio dello scalo che vede il porto di Pesaro da tempo necessitare di un intervento Ci sarà un primo intervento da 1.800.000 euro che riguarderà il dragaggio in particolare della parte di entrate e di uscita del porto È sicuramente una buona notizia A breve dovrebbero partire i sondaggi per caratterizzare e per verificare che tipo di sedimenti ci sono Però abbiamo evidenziato che seppur è importante il dragaggio delle entrate e uscite del porto Occorre fare un dragaggio più complessivo che riguarda l'intero porto Abbiamo quindi chiesto di accelerare con i lavori soprattutto con gli 11 milioni di euro che sono totalmente previsti per il porto di Pesaro Perché oltre al 1.800.000 che riguarderà questo primo intervento ci sono altri 11 milioni di euro per realizzare sia il dragaggio e la cassa di colmata A Garofalo è stato poi richiesto di salvaguardare la nautica da di porto e la cantieristica navale Valorizzando l'aspetto turistico che una darsena necessita Tema che si lega alla rimozione dei paletti installati Non ultimo è stato chiarito che ad esempio quelli che sono i paletti che sono stati installati verranno rimossi Ma stiamo attendendo da parte dell'autorità portuale quello che è un progetto alternativo Una piccola parte di Viale Trieste cambierà volto Il degrado rappresentato dall'hotel Garden all'angolo con Viale Rovereto Presto scomparirà con la demolizione della struttura a otto piani prevista in questi giorni Lavori di abbattimento partiti questa mattina con l'isolamento dell'edificio Perimetrando la zona e negando la circolazione di veicoli su quel tratto Viabilità dunque momentaneamente modificata con l'impossibilità di proseguire lungo Viale Trieste Ma obbligati a svoltare per Viale Pola Prima della demolizione vera e propria verranno smontate finestre e porte Alla fine dell'estate la Renco, titolare dello stabile, partirà con la ricostruzione L'istituto Benelli di Pesaro guarda al futuro 30 persone del personale scolastico sono state selezionate per studiare, per perfezionarsi in un contesto diverso Quello dell'Erasmus, vediamo Siamo presso l'istituto Benelli di Pesaro, un istituto professionale Ci troviamo qui a presentare un progetto Erasmus che abbiamo realizzato, pensato E stiamo portando avanti con l'interno dell'istituto Per la mobilità di 30 persone dell'istituto Quindi abbiamo pensato di innovare il percorso di questa scuola Mandando 30 persone all'estero 10 in Finlandia, 10 a Malta e 10 in Irlanda Per innovare la parte riguardante, diciamo, la programmazione e l'istruzione È importante perché questo progetto, perché abbiamo pensato di dover portare qualcosa di più all'interno dell'istituto Portare qualcosa di innovativo, rapportandoci con i partner stranieri Che ci poteranno sicuramente un valore aggiunto per poter migliorare la qualità dell'istruzione all'interno dell'istituto Questo progetto è rivolto essenzialmente al personale Personale di cui sono 24 docenti e 6 personale alta Quindi degli uffici, dell'amministrazione e dell'ufficio tecnico Sono tutti quanti il personale che avranno a fare un percorso di formazione Riguardante le skills di tipo informatico Ma non solo, anche per migliorare quelle che sono le capacità comunicative all'interno della scuola Questo ci è sembrato importante valorizzarlo Andando a prendere quelle che sono le best practices all'interno della comunità europea Ho deciso di partecipare perché pensavo e penso che sia importante aderire allo spirito di questo progetto Che intende restituire alla scuola un incremento della qualità dell'informazione Della formazione e che possa avere una buona ricaduta sugli studenti Sicuramente perché poi il fine ultimo è quello, riuscire a dare qualcosa di più ai nostri alunni E' importante costruire uno spirito europeo E il senso di questo progetto è appunto riuscire a mettere in piedi una rete, un network europeo Che fortifichi le competenze sicuramente informatiche, tecnologiche Ma anche linguistiche e rafforzi il senso di comunità europea Che è fondamentale appunto in seconda battuta Puoi riuscire a restituire nelle classi, nell'attività di insegnamento Che diciamo appunto verrà sicuramente arricchita da questa esperienza Che permetterà di incrementare il teamwork, il team building E tutte quelle skills che appunto oggi come oggi sono percepite come assolutamente irrinunciabili Ed è una sfida a cui la nostra scuola non si è voluta sottrarre Anzi abbiamo risposto in massa E noi chiaramente dobbiamo appunto potenziare le competenze digitali Visto appunto promuovere quindi la transizione digitale Ma anche appunto quella ecologica Certo l'Erasmus è un programma europeo che dà tutte queste opportunità A dire la verità sono anni che noi comunque partecipiamo a programmi Erasmus Però da diciamo copartecipanti, ecco da partner Questa volta invece vogliamo essere dei promotori e attori Abbiamo quindi progettato praticamente questo progetto di cui abbiamo parlato prima Cioè educare gli adulti a una cittadinanza europea consapevole Che è chiaro che prima di tutto si basa sulla qualificazione e approfondimento delle competenze digitali Quindi abbiamo appunto fatto questo progetto che è stato appunto approvato dall'Europa E siamo contenti praticamente di illustrarlo E soprattutto appunto che già durante l'estate Praticamente dall'estate in poi all'autunno Già appunto dei gruppi di docenti, tecnici e assistenti amministrativi partiranno Per questo programma andranno appunto in Finlandia, Malta, Dublino Sono stati 522 gli eventi organizzati dalla Proloco della provincia di Peserurbino nell'anno 2022 Di questi e dei progetti per il 2023 si è parlato nell'incontro avvenuto nel weekend a Sassocorvaro È un onore per noi ospitare questa importante manifestazione, questo evento Quindi questo evento provinciale organizzato dai Lumpi Quindi dal presidente del Proloco provinciale Damiano Bartocetti Che ringrazio per aver pensato a questa giornata proprio qui In questa culla del rinascimento all'interno della Rocco Baldinesco di Sassocorvaro Ci troviamo nel comune di Sassocorvaro Auditore E per me è veramente un onore poter avere qui tante presenze E avere avuto oggi qui l'opportunità di presentare per l'ennesima volta il nostro territorio Alle tante persone presenti Dobbiamo ricordarci che le Proloco sono la linfa vitale di un comune Un comune, un'amministrazione senza le Proloco sarebbe un'amministrazione incompleta Incapace di gestire il proprio territorio Perché le Proloco, grazie alle Proloco le amministrazioni riescono ad organizzare eventi Ad promuovere il proprio territorio Attraverso le tante iniziative che in sinergia si realizzano durante l'anno Un luogo simbolico scelto dalle Proloco della provincia di Peso Rubino Per la propria assemblea Dove vogliamo anche rilanciare il turismo della nostra regione Che sotto la guida del presidente Acquaroli Sta ottenendo risultati straordinari Siamo ai vertici per crescita di presenze turistiche e arrivi in Italia Tra i migliori frutto della bellezza di un territorio Che è ancora tutto da scoprire Sul quale stiamo investendo non solo con i nostri testimonial Ma con una serie di eventi di qualità In questi eventi concorrono anche gli eventi Che nascono dal grande impegno dei 5.000 volontari marchigiani del Proloco Che realizzano oltre mille occasioni di incontro nei nostri territori e nei nostri borghi Che non hanno nulla da invidiare ai borghi delle altre regioni O ai contesti naturalistici, paesaggistici e architettonici delle altre nazioni europee Il traguardo è importantissimo perché noi festeggiamo 522 eventi nel 2022 E puntiamo a oltre 600 eventi nel 2023 Un grande traguardo che quest'anno ci vedrà su tutte le televisioni nazionali Durante il Giro d'Italia Perché saremo coordinatori anche pronti all'accoglienza di tutti i giornalisti da tutto il mondo E quindi seguiremo con le Proloco da vicino La promozione e l'accoglienza del nostro territorio Io sono qui proprio per testimoniare l'importanza per lo stato delle Proloco Proprio per la sensibilizzazione dei territori E per la pubblicità che le Proloco fanno Del territorio, dei sapori, dei colori di ogni singola realtà Con le loro fiere, con i loro eventi musicali Quindi ritengo che siano uno di quegli elementi fondamentali Perché siano conosciuti i paesi bellissimi Ma magari piccolini, dell'entroterra Invece grazie alle Proloco si ha questa ampia visibilità Riparte dalle Marche Pane e Politica di Matteo Ricci Il viaggio del sindaco di Pesaro nella provincia italiana Giovedì 4 maggio sarà ad Acqua Santa Terme ad Ascoli Piceno Ospite della famiglia Parlamenti Un confronto diretto con i cittadini Che per una sera apriranno la porta di casa Ricci Per parlare dei loro problemi, delle loro esigenze Delle sofferenze sociali ma anche delle speranze e delle possibilità La cena condivisa sarà trasmessa sulla pagina Facebook Del sindaco di Pesaro Matteo Ricci a partire dalle 21 E nel mese di maggio, grazie alla disponibilità dell'Associazione Lilt di Pesaro Urbino Lega Italiana per la lotta contro i tumori Viene proposta da Avis Comunale Pesaro Una campagna volta sia a promuovere la donazione di sangue Sia a sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno nelle giovani donne Le donatrici già iscritte ad Avis Pesaro Tra i 25 e 40 anni che prenoteranno una donazione nel mese di maggio Potranno fissare con la segreteria di Avis Un appuntamento per una visita senologica gratuita Sabato 6 maggio Marche Multiservizi aprirà le porte della propria azienda Attraverso alcune visite guidate Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e 30 Sarà possibile accedere al potabilizzatore di calcinelli Al centro raccolta di Montecchio E ai depuratori di borgherie di Cagli Per partecipare sarà necessario presentarsi E prenotarsi sul sito di Marche Multiservizi Il Rotary Club di Fano ha organizzato anche quest'anno L'asta di beneficenza per la Caritas Diocesana Alla seconda edizione hanno partecipato 32 artisti fanesi e non Realizzando ben 41 opere Il loro incasso dalla vendita verrà devoluto in beneficenza alla Caritas Impegnate in diversi progetti assistenziali e sociali attivi sul territorio L'eccellenza del pescato a chilometro zero Completa la filosofia della cucina del caffè del porto Giovedì 4 maggio alle ore 20 Protagonista della nuova tappa del tour della Fano gastronomica 10 tappe a miglio zero Sarà il locale di Simone Serfilippi e di Stefania Palazzini 10 tappe a miglio zero è il primo momento di questo evento gastronomico Promosso dal comune di Fano Un progetto che unisce i ristoranti della città della fortuna Nel nome della tradizione peschereccia Ed è stato presentato venerdì a Piobbico L'itinerario della bellezza 2023 organizzato da Confcommercio Marche Nord Lo speciale andrà in onda venerdì 5 maggio alle ore 21 e 40 Ora però vediamone un estratto Amiche e amici di Rossini TV oggi siamo a Piobbico Siamo di fronte al castello dei Brancaleoni Per andare alla scoperta degli itinerari della bellezza Una proposta di Confcommercio Marche Nord Che andremo a scoprire con le nostre telecamere La bellezza che noi rappresentiamo in questa provincia Che ci consente di avere in pochi chilometri spiagge bellissime Il promontorio del San Bartolo Le colline dolci, digradanti verso il mare Una montagna, le montagne straordinarie del Catria e del Nerone Un ambiente incontaminato Un'enogastronomia di qualità Opere d'arte di valore mondiale, planetario Basta pensare a Urbino, patrimonio dell'umanità E qui abbiamo alle mie spalle i quadri di Virginio Ridolfi Il pittore dei Calanchi E sono anche i Calanchi Sono un esempio della bellezza del nostro territorio Ecco, con l'itinerario della bellezza Noi questo vogliamo rappresentare Nel mondo del turismo Presentare l'offerta completa di quello che è il nostro territorio I vari prodotti turistici O i turismi, come si diceva una volta Ed è quello che il mercato del turismo vuole Oggi è impensabile presentarsi con un prodotto solo Devi dare al turista e anche agli operatori turistici professionali L'opportunità in una vacanza di vedere tante cose Di immergersi nel territorio Di vivere esperienze, emozioni L'itinerario della bellezza consente di vivere emozioni E di fare tante esperienze Siamo qua Nella cornice del Castello Brancalioni Che per noi è la nostra cartolina da visita Rappresenta il nostro paese E quindi io a nome dell'amministrazione Sono molto contento di ospitare questo evento Devo ringraziare la Confcommercio con il direttore Varotti Che ha creduto in questa location E ha creduto anche nell'essere molto disponibile Nel fare entrare i piccoli comuni In questo circuito dell'itinerario della bellezza Che oggi andremo a presentare Il 2023 Che logicamente i piccoli comuni Sono sempre più in difficoltà rispetto Come risorse Rispetto ai comuni più importanti E devo riconoscere a Confcommercio E al direttore Varotti Di essere stato molto molto sensibile Verso le nostre problematiche E quindi ci ha messo nelle condizioni Di poter partecipare Appunto a questo itinerario La Banca Cooperativa di Credito di Pesaro Ha celebrato all'interno della Vitrifrigorena La Festa del Socio Evento al quale abbiamo partecipato Anche noi con le nostre telecamere Per la realizzazione di uno speciale TV Che andrà in onda giovedì 4 maggio Alle ore 20.10 Vediamo di che cosa si tratta In questo piccolo contenuto Massimo Tonucci Presidente Siamo all'interno dell'arena E siamo tanti Veramente tanti Chi abbiamo alle nostre spalle In questa serata di festa? Abbiamo circa mille persone Sono le persone più importanti della banca Perché sono i soci E questo Galà del Socio È stato pensato Dopo alcuni anni Che non lo facevamo Per le note vicende epidemiologiche Quest'anno abbiamo pensato Di farlo Di farlo Per ripartire E quindi i soci Sono la nostra risorsa Sono poi i nostri correntisti Sono coloro che Vivono nella nostra città Sono quelli che lavorano Con la banca di Pesaro E che fanno Creare Quell'indotto La banca di Pesaro Che sono Gli interessi Il margine di intermediazione Il margine di intermediazione Che quest'anno è stato Veramente importante Quindi una banca Che è cresciuta In doppia cifra Una banca Che vuole essere Sempre più protagonista Del proprio territorio Perché Noi siamo La banca Della città di Pesaro Il nostro territorio È questo Non miriamo Ad espanderci In altri territori Noi svilupperemo La nostra attività Nella città di Pesaro E stando vicino Alle famiglie Alle imprese E Supportando Il più possibile Le necessità Abbiamo approvato Il nostro bilancio Dell'esercizio 20-22 Un bilancio Veramente importante Per tanti fattori E poi come è stato Conseguito Visto che stavamo Venendo In un momento Veramente particolare In cui purtroppo Prima la pandemia Poi i fattori Socioeconomici E politici Importanti Ne hanno condizionato Quali sono I punti di forza Della banca di Pesaro I punti di forza Che rendono La banca di Pesaro Veramente attrattiva Sul nostro territorio La banca Da tre anni Fa parte Del gruppo bancario Cooperativo Icrea Grazie all'appartenenza A un gruppo bancario Siamo all'avanguardia Nell'offerta Di prodotti e servizi Come tutti gli altri Tanto più Nei prodotti digitali E soprattutto Siamo sempre alla ricerca Di nuove combinazioni Servizi o prodotti Da promuovere Sul territorio A favore dei giovani Ma soprattutto Delle famiglie E delle imprese Un tessuto Veramente Molto vivace Ma vivace Nel senso positivo Per quanto riguarda Il servizio In cui operiamo Passiamo ora Allo sport E al calcio a 5 Servivano i tre punti E i tre punti Sono arrivati Domenica pomeriggio L'Ital Service Pesaro Ha sconfitto in casa Per 7 a 2 La fel di Eboli Portandosi a 8 punti Dal Monastir Biancorossi Che serpeggiano Tra salvezza e play-out E per capirne L'esito finale Sarà necessario Attendere Fino a sabato prossimo Alle 18 Quando a Padova L'Ital Service Giocherà L'ultima partita Di regular season Nella partita giocata E vinta dagli uomini Di Colini Poco prima Del fischio d'inizio Il capitano Tony Dandel È stato premiato Per la trecentesima Presenza Con la maglia Dell'Ital Service Pesaro E questa era L'ultima notizia Di questa edizione Del telegiornale Prima di salutarci Però vi ricordo Gli appuntamenti Di serata Questa sera Infatti alle ore 21.20 In Prima TV Lo speciale Dedicato alla presentazione Della terza edizione Di Techstar Startup Weekend Ideato da Riviera Banca E da Fattor Comune Con la partecipazione Dell'Università di Bologna E poi a seguire Alle ore 22 Continuano le repliche Del programma Che ci fa conoscere La storia Delle aziende Della provincia Di Pesaro Urbino In questa puntata Ci focalizzeremo Sull'azienda Gamba 1918 E poi come di consueto Vi ricordo L'appuntamento Per domani mattina Alle ore 7.20 In diretta Con Buongiorno Rossini La rassegna stampa Dei quotidiani Della provincia Di Pesaro Urbino E a narrarvi Le notizie Di giornata Ci sarà Antonio Astuti E con i programmi Delle prossime ore Io vi saluto Vi ringrazio E vi auguro Un buon proseguimento Di serata Della prossima Della prossima